amici di youtube ciao a tutti da Nicola Corvino in questo nuovo video parleremo ancora di una curiosità però prima volevo dirvi che i numeri della collezione di Abolic sono 844 che vanno dal numero 1 il rete del terrore all'ultimo quello di giugno 2017 caccia all'assassino però in questi 844 numeri vanno inseriti altri 12 numeri che sono delle ristampe queste ristampe vanno dal 12 marzo 73 al 13 marzo 78 quindi la collezione completa sono gli 844 numeri inediti più 12 ristampe sono 856 numeri questi 12 ristampe sono stati inseriti nell'arco di cinque anni precisamente dal 12 marzo 73 al 13 marzo 78 quindi anche queste 12 ristampe fanno parte della collezione ufficiale che cosa vuol dire che invece di uscire il numero inedito inserivano una ristampa perché i lettori volevano assumere le origini di Abolic infatti questa prima ristampa delle rette del terrore c'è un piccolo strillo sulla cobertina che dice eccezionale ristampa del numero uno qual è la curiosità i lettori specialmente io abbiamo fatto salte di gioia quando sono usciti queste ristampe a intervalli di tre quattro mesi in totale 12 numeri sono usciti in cinque anni però c'è stato il numero 11 delle ristampa è precisamente questo trappola infernale questo albo dietro c'è lo scheggiato stavo dicendo il mancino lo scheggiato qual è la curiosità che un lettore ha visto questa app e se l'è comprato poi dopo che l'ha letto ha detto mio questo già l'avevo letto e certo perché se è una ristampa è normale che l'avevi letto e allora ha fatto causa alle sorelle giussani come vi ho parlato nel video precedente di quell'altro problema di quella ragazza in costume sulla copertina allora il tribunale di milano con voce al pretore ha detto a questa persona tu hai chiesto in reticola trappola invernale sì quindi ti è stato consegnato questo giornalino che tu avevi chiesto questo fumetto sì e quindi la casa editrice non ha nulla da ricambiarti nel fatto che tu già avevi letto questo fumetto perché poi sui primi tre numeri c'era c'era lo strillo in copertina eccezionale prima ristampa invece nei numeri successivi stava nel frontespizio vedete ristampa numero 11 del 10 novembre 63 allora anche questa volta vi devo dire che Diabolic vince sempre se questo video vi è piaciuto mettete un like su mi piace fate pure i vostri commenti e potete chiedermi anche delle curiosità magari io cercherò di rispondervi nel migliore dei modi e iscrivetevi al canale così vi terrò sempre aggiornati ciao a tutti da Nicola Corbino ciao a tutti ciao a tutti